e la marotta league la marotta league la marotta league la marotta league e la marotta league dovrebbe sentirsi un po meglio di stamattina ragazzi questo microfono eh ma come funziona come funziona un rigore clamoroso non dato lo annotiamo visto che abbiamo pareggiato e c'era un rigore clamoroso non dato dove il VAR doveva intervenire a mio modo di vedere sul ticusturam dopo ce n'è stato un altro mezzo non si è capito tipo Sommer con la Fiorentina ma molto evidente quello lì e non è stato voglio partire da questo perché ci hanno sfracanato i coglioni con la marotta league e rigore non dato l'inter pareggia quindi tutti contenti va bene così ma il rigore non dato visto che poi ci rompono le palle quando ci sono cose anche inesistenti quindi uno a uno ragazzi cosa vi dico da due giorni va bene anche un pareggino con il Napoli è un peccato però è un peccato perché il gol li hai regalato tu cioè abbiamo palla a noi ci siamo messi a cincischiare come i pirla poi non lo so se è calcio d'angolo o meno perché Darmian si è incazzato però siamo stati i pirla a noi il calcio d'angolo li abbiamo regalato noi cioè l'uno a uno è venuto fuori questi qua hanno fatto il primo tiro in porta nel secondo tempo al sessantesimo credo di Sommer che ha fatto la parata così quindi un primo tempo dove l'Inter va in vantaggio meritatamente perché comunque c'era stata una doppia parata di Meret un paio di volte azioni non concluse bene poi bellissimo bellissima azione il gol di Matteone Forforone e poi imprecisi Mkhitaryan continua le sue partite con un estremo imprecisione e niente non c'è verso di far giocare frattesi dall'inizio e far riposare un po' Miki Miki non lo so perché non ne sta azzeccando mezza Miki Miki diversi giocatori sulle gambe quindi non una bella partita perché non tante occasioni né da una parte e né dall'altra fondamentalmente un po' è venuto fuori il Napoli nel secondo tempo ma non è che avesse fatto chissà che cosa e gli hai regalato quel cazzo di gol a quel calcio d'angolo dal quale è venuto fuori il gol classifica 76 Inter, Milan 62, la Juve 63 quindi siamo a più 14 sulla seconda e a più 17 o 16 non mi ricordo sulla terza con una partita in meno quindi ci sono nove partite che mancano adesso c'è la sosta prossima partita ragazzi il DH allo stadio quindi Inter Empoli per chi vuole ci vediamo ci vediamo al Meazza e basta il Ticusturam stasera impreciso ha sbagliato diverse cose il Toro il Toro solita partita di sacrificio ci ha provato al primo tempo ma Meretta ha parato però era normale che poi la partita andasse anche un attimino queste due hanno giocato una col Barcellona e una con l'Atletico fino al 120esimo quindi non una bella partita un 1-1 che ci sta secondo il mio modo di vedere alla fine ci può stare l'1-1 però pirla cioè deficienti noi deficienti noi e stronzo l'arbitro visto che non mi ha dato un rigore clamoroso poi magari lo sbagliavo ma dammelo il rigore che c'è cazzo sul Ticusturam e basta ragazzi domani vi cuccate le live reaction con calma e poi parleremo della partita con calma perché tanto adesso si gioca una volta la settimana e quindi addirittura c'è la sosta queste grandi trasferte della nazionale amichevoli in America vedete voi in un periodo del genere a marzo comunque 1-1 e adelante Inter verso la meta ripeto più 14 adesso i conti fateli voi io ragiono partita per partita quindi i conti non li so so che manca una partita è una partita in meno e abbiamo 14 punti sulla seconda questo è e basta basta ragazzi condivisione dei video iscrivetevi al canale sempre forza Inter attivate la campanella passa parola ragazzi mi raccomando e sempre viva l'Inter e mi riallaccio a un bel coro che ho sentito alla fine con la squadra sotto la curva vinceremo il tricolor vinceremo 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 il tricolor ciao